Mancano due giorni alla sfida tra Roma e Napoli, una gara importantissima per gli azzurri che dopo aver espugnato San Siro domenica scorsa si giocheranno sempre di domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico, un'importantissima fetta per raggiungere un posto per la qualificazione alla prossima Champions League in vista di questa gara Gattuso recupera due calciatori fondamentali, Costas Manolas che dovrebbe partire titolare in difesa accanto a Coulibaly mentre Lozano anche gli recuperato dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina lasciando la fascia destra dell'attacco azzurro al Man of the Match della sfida dell'Olimpico ovvero Politano restano ancora out gli infortunati Rachmani, Petagna e Lobotka e ovviamente Goulam alle prese con il recupero dall'operazione al ginocchio ma intanto De Laurentiis non resta a guardare, sta già progettando il Napoli del futuro sul piatto ci sono due alternative che variano in base alla posizione di campionato che raggiungerà il Napoli alla fine di questa stagione in caso di qualificazione in Champions League il sogno del presidente per la panchina azzurra resta Max Allegri un allenatore che ha vinto tantissimo sulla panchina della Juventus e che De Laurentiis vorrebbe portare all'ombra del Vesuvio e invece per quanto riguarda un'eventuale mancata qualificazione alla Champions League sembra che il favorito per la panchina azzurra sia De Zerbi su Italiano e Juric. Ovviamente in caso di qualificazione all'Europa League e non alla Champions il presidente è pronto a ridimensionare economicamente la squadra tagliando gli stipendi e cedendo qualche pedina fondamentale su tutti Goulibaly. Mentre sembrerebbe che l'idea appunto del presidente del Napoli sia quella di trattenere un gruppo di calciatori sul quale costruire il futuro del club su tutti ovviamente Osimène, Insigne, Lozano, Zilisky e Fabian Ruiz. Ovviamente il presidente De Laurentiis guarda anche al mercato in entrata oltre ai tanti nomi che si sono fatti per il ruolo di terzino sinistro due su tutti sono i calciatori che il club partenopeo sta seguendo in questa fase uno su tutti è Zaccagni che è una grandissima tentazione ma non è ancora opzionato l'altro nome è quello di Kukmeiner, calciatore della Zeta Alkmaar squadra che il Napoli ha affrontato nella fase a gironi dell'Europa League di questa stagione insomma il Napoli è già a lavoro per il futuro ma molto dipenderà dalla posizione in classifica che raggiungerà la squadra al termine di questa stagione per oggi è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime Flash News vi auguriamo una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti